...tiene per festeggiare due premi importanti a livello nazionale a ritirarli e il gruppo musicale dell'Istituto Musicale Veneto Città di Tiene. Vediamo. Ha festeggiato il suo decimo compleanno proprio quest'anno e per l'importante occasione ha portato a casa ben due premi. Il protagonista è l'IMT Vocal Project, il gruppo vocale dell'Istituto Musicale Veneto Città di Tiene diretto dal maestro Lorenzo Fattambrini. Nostro fiore all'occhiello, un gruppo molto pieno di verve e di energia che vince il primo premio assoluto come categoria B nel canto popolare a Vittorio Veneto e il premio a Efrem Casagrande. E con grande orgoglio ha detto oggi Riccardo Brazzale, direttore dell'Istituto Musicale, che abbiamo accolto la notizia dell'affermazione del gruppo vocale di Lorenzo Fattambrini. Perché l'affermazione non solo di una conclamata qualità, ma non da meno della voglia del nuovo, del non accontentarsi, del già detto e del già ascoltato. Grazie.